Bene, comincia tu che sei più grande. Comincio io che sono il più grande, il più orziano. No, finisce grande, più mazzurro. Allora, siamo qua io e Paolo Cevoli e Claudio Penoni a dire che riso fa buon sangue. Perché il riso fa buon sangue. Cioè, sapevo del vino, però meno riso fa buon sangue e il sangue bisogna donarlo. Il sangue bisogna darlo via. Darlo via perché può servire, capita che una roba che non ti aspetti devi darlo via, magari te ne serve e invece se tu l'hai dato via prima poi lo ritrovi. Il riso. Anche il sangue. Quindi diciamo che se lo dai fai bene a te. Risotto, riso al sangue. La follia. Grazie a tutti